Su qualcuna dove abbiamo piazzato la telecamera... A Fano aumenta la lotta contro i furbetti di rifiuti. Alle 50 isole ecologiche già videosorvegliate su un totale di 300 presenti in città, se ne vanno ad aggiungere altre 10 nelle quali verranno installate le telecamere. La gara d'appalto si è già conclusa e ora si passa all'affidamento per poi avere dal prossimo gennaio più occhi elettronici puntati sui cassonetti. Tra le isole ecologiche scelte per un aumento dei controlli rientrano ad esempio quelle che si trovano in Viale Kennedy, Vialdo Moro, in Vienazzerio Sauro e in località Carignano, lungo la strada comunale delle Cerquelle. Il compito di verificare i comportamenti scorretti toccherà ai quattro ispettori ambientali di ASET, coordinati da Mauro Serra, che già dall'inizio anno al 30 settembre hanno riscontrato 387 violazioni, il leggero calo rispetto al 2020 per via della pandemia. In totale le sanzioni elevate lo scorso anno sono state 500. Dopo l'attività degli ispettori ambientali di ASET che tirano giù dal girato delle telecamere tutte le fasi dove vengono le frazioni, queste vengono date proprio a noi, alla polizia locale, che si occupa della fase identificativa e sanzionatoria. Polizia locale definita di prossimità dal vice ispettore responsabile del nucleo ambientale Roberto Mango, che ha evidenziato l'ascolto dei cittadini da parte degli agenti che non hanno mai tralasciato l'aspetto umano. Che tipo di sanzioni sono state elevate? Ma sostanzialmente vengono elevate sanzioni sul non corretto uso dei dispositivi, nel senso che o lasciano i rifiuti fuori dai cassonetti o in modo non differenziato, cioè spesso non fanno a differenziare tipo carta, vetro, plastica, lasciando o tutti insieme o fuori dai cassonetti. Com'è possibile riuscire a risalire a colui che sbaglia? Lo facciamo o attraverso la targa, attraverso la visualizzazione dei veicoli che ci sono, o attraverso anche un sistema di conoscenza delle persone, perché a volte magari conosciamo le persone, o anche attraverso i colleghi che si occupano delle informazioni, delle notifiche, quindi abbiamo una rete poi di conoscenze, tra virgolette chiamiamole così, che riusciamo a risalire alle persone. O attraverso anche una serie di indagini sul territorio, nel senso che se vediamo una persona a piedi e vediamo che frequentemente abbandona dei rifiuti in quella zona, magari attraverso poi tutta una serie di sistemi di attivazione sul territorio, riusciamo poi a risalire, cioè appostamenti, eccetera, eccetera, e riusciamo a risalire quella persona e poi a contestare la violazione. Nel bilancio illustrato oggi rientrano anche più di 1900 controlli nei confronti dei conduttori di cani e la verifica di 671 utenze in relazione al compostaggio domestico, per le quali sono stati riscontrati quattro illeciti. I cassonetti più sporchi invece sono quelli del verde e della plastica, che per via dell'apertura più grande del coperchio sono spesso utilizzati per gettare materiali diversi. Le sanzioni in base al tipo di violazione vanno da 25 a 1000 euro, in caso di abbandono di rifiuti pericolosi è prevista la pena dell'arresto da sei mesi a due anni, più l'ammenda da 2600 a 26 mila euro. È un grande risultato perché ogni isola ecologica, oltre ad essere un patrimonio economico della città, è anche un luogo e uno strumento per poter rieducare la cittadinanza al corretto conferimento dei rifiuti e all'importanza dello stesso, perché con i rifiuti correttamente conferiti noi riusciamo sia a riutilizzarli ma anche a riciclarli. Sento di fare un ringraziamento particolare ad Aset e alla polizia locale, perché davvero si sono applicati con un risultato straordinario di 2871 controlli da gennaio a settembre. Sono controlli efficaci che non solo interagiscono con quello che è l'abbandono dei rifiuti, ma anche con tutti quei proprietari di animali che portandogli a passeggio abbandonano poi i propri escrementi e questo non va bene. Non va bene, cerchiamo di tenere la nostra città pulita e in salute, lo vogliamo fare assieme a tutti voi e se questo serve ben venga. Ci sarà una grande attenzione in città e quindi chi inquina paga.